Siamo prontissimi, ci siamo preparati con un mese intenso di allenamenti. Abbiamo voglia di iniziare e abbiamo voglia di metterci alla prova, di vedere un po' questo nuovo rooster, questa squadra, come si approccerà il campionato. Oggi abbiamo avuto il piacere di parlare con tutta l'entourage dei nostri sostenitori, il sindaco che ha avuto parole bellissime per noi e ci ha fatto molto piacere. Ringraziamo come al solito i nostri sponsor che oltre ad aiutarci economicamente ci danno sempre delle magliette esteticamente belle. Ci vediamo domenica al palazzetto, mi raccomando, vi aspettiamo perché quest'anno abbiamo bisogno di voi alla grande.